buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di lumiere lo spazio che qui su episteme di sapere oltre il mainstream ormai da qualche settimana vogliamo dedicare alla riscoperta in senso identitario della arte cinematografica. Chi ha seguito la scorsa puntata certamente lo ricorderà, abbiamo presentato infatti un film che è stato capace di fare grandi sensazioni e di muovere certamente i cuori, sia in generale che in ambienti a noi particolarmente più grossi. Un film appunto capace di muovere i cuori anche e soprattutto a causa della scioccante veridicità della storia su cui si basa. Il film era, appunto, chi ci ha seguito la scorsa settimana ricorderà, Into the Wild di Sean Penn, basato sulla figura reale, sulla vita e sull'avventura e sulla morte di Christopher McCandless. Perché vogliamo dilungarci su Into the Wild anche in questa puntata, prima di parlare del film di cui poi effettivamente andiamo a trattare? Perché Into the Wild e, appunto, Christopher McCandless è la storia di uno sradicato. McCandless è certamente, come già dicevamo la scorsa settimana, un giovane da ammirare sotto molti aspetti, un giovane che ha saputo interrogarsi, un giovane che ha saputo allontanarsi dai binari prestabiliti, lanciarsi in un'avventura forse più grande di lui, ma affrontando, abbracciando spassionatamente il sacrificio fino alle estreme conseguenze. Un giovane, appunto, per questi versi ammirevole, che però sradicatosi da una realtà borghese che senz'altro avvertiva come troppo stretta, non ha saputo riradicarsi, non ha saputo costruire, non ha saputo opporre dei punti, fermi degli alberi, per usare una metafora jungheriana, alla sabbia del deserto. Ecco, Christopher McCandless è stato, appunto, è stato soltanto, se vogliamo, una pars destruens, una positiva pars destruens, che però non è stata seguita in modo adeguato da una pars costruens di uguale importanza. Dicevamo quindi che McCandless era un sognatore, ma era uno sradicato. E proprio di sradicamento vogliamo andare a trattare quest'oggi, prendendo in esame un film che probabilmente in molti non conosceranno, è un film non notissimo, anzi, se vogliamo, in Italia giunto immeritatamente anche come semi-sconosciuto, però che riteniamo possa essere fondamentale nel dibattito, nel flusso di argomentazioni che andiamo portando avanti. Il film è appunto la ballata di Strosek, del grande cineasta tedesco, particolarmente bavarese, Werner Herzog. Il film è del 1976 e si colloca in quello che è considerato dei più l'età d'oro del Herzog, del Herzog autore di finzione. Sappiamo infatti che la filmografia di Werner Herzog si divide pressoché parimenti fra lavori di finzione e documentaristi, che appunto Herzog è ritenuto ovviamente uno dei più grandi, se non il più grande documentarista evidente. In questo caso però parliamo dell'età d'oro del Herzog autore di finzione, cioè quei dieci anni che intercorrono fra Aguirre del Zorn Gottes del 1972 e Fitzcarraldo, esattamente di dieci anni dopo, nel 1982, entrambi con protagonista il grande Klaus Kinski. Ecco, e la ballata di Strosek si colloca più o meno a metà di questo percorso, nel 1976. È un film che ha una storia molto interessante, molto particolare anche se vogliamo, e che ruota per la gran parte intorno alla figura del protagonista, Bruno S., Bruno Schleinstein, questo è il suo vero nome. Un uomo, un dimenticato, che, diciamo, tirava a campare un po' come meccanico in un'autofficina, un po' come salto in banco. Un uomo che Werner Herzog conobbe tramite un breve documentario sulla sua figura, Bruno de Schwarz, appunto Bruno il Nero, e che volle scritturare come protagonista di uno dei suoi capolavori più celebrati, più enigmatici e anche più influenti, appunto l'enigma di Kaspar Hauser, Alles Fustich und Gott gegen Halle, del 1974. Teoricamente, nelle intenzioni di Herzog, Bruno S., così lo chiamiamo, avrebbe dovuto recitare anche in Voizet, ma poi la produzione scelse di affidare il ruolo al collaudatissimo Klaus Kinski. Quindi Herzog, comunicato l'appunto a Bruno, si sentì rispondere anche con un certo disappunto che ormai aveva chiesto il permesso all'autofficina dove lavorava e quindi la situazione gli avrebbe creato non pochi problemi. E quindi praticamente in circa quattro giorni Herzog scrisse la sceneggiatura di, comunque, la ballata di Strosek, semplicemente Strosek in titolo originale tedesco, come si dice, creandola artigianalmente, modellandola intorno alla stessa figura di Bruno. È un film che, nonostante questa sua nascita avventurosa, precaria, diciamo, problematica, Herzog sente come molto caro. Pronto è il film più autentico di Herzog, autore di finzione, quello più vicino alla sua carriera come celebrato documentarista. È un film di cui capiamo certamente la volontà non solo di, come si dice, attenersi anche proprio alla realtà, dei fatti, diciamo, alla verosimiglianza dei fatti. Per dirne una, non solo tutti, non solo, diciamo, il personaggio protagonista è modellato intorno alla vera figura di Bruno S, ma, per esempio, tutti i personaggi principali, la stragrande maggioranza dei quali attori non professionisti mantengono il proprio nome, chi di compresa Ifa, la protagonista femminile, che è interpretata dall'unica attrice professionista, ovvero sia Ifa Mates. È un film che, appunto, Herzog considera anche molto, veramente molto vicino al suo cuore. Citiamo, a titolo di esempio, anche il fatto che Strozek è è anche il nome del protagonista del primo lungometraggio di Herzog, Segni di vita, ovvero Liebenstein. Quindi capiamo anche proprio quanto cuore ci abbia messo il regista nella sua realizzazione. e quindi è un tema, appunto, vicino, personale, quasi intimo, e che affronta uno dei grandi interrogativi di Herzog, cioè come la modernità, il sogno americano, la, appunto, la contemporaneità capitalistica si possano conciliare con la natura del mondo. È effettivamente una critica sferzante al cosiddetto sogno americano, l'American way of life, questa figura di questo poveraccio, possiamo dirlo, un uomo infantile, quasi bambinesco, che un giorno, stufo di una vita arida, una vita triste, una vita di solitudine, in una Berlino veramente desolata, accetta di rispondere alle sirene della migrazione, accetta di rispondere all'invito del suo vicino di casa di raggiungere insieme a lui il nipote di questi nel Wisconsin. Quindi Strozek parte insieme, appunto, a Scheitz, il suo vicino, all'amica Ifa, una prostituta in fuga dal pappone di cui Strozek è innamorato, per, appunto, dislocarsi in questo, in questa nuova vita su suolo americano, una vita che presto lo vedrà sostanzialmente cadere dalla padella alla brace, cadere da una solitudine a una solitudine ancora maggiore, cadere da una vita e da un'esistenza disgraziata a un'esistenza ancora più disgraziata da straniero, da ramingo, da persona ormai, diciamo, pure rinnegata, da persona che ormai non ha più niente e quel poco che ha lo perde in un istante. Ecco, è veramente una critica spietata al sogno americano, a quest'idea di una terra promessa in cui uomini e donne di ogni ceto, di ogni provenienza, di ogni etnia, di ogni origine possano impiantarsi così, senza un perché, ricostruendo un qualcosa che neppure prima avevano. Ecco, è veramente una critica sferzante a quest'idea che semplicemente lavorando sodo e guadagnando tutto possa risolversi. È veramente una critica molto pesante, un film breve, un film agevole da guardare, eppure duro, in questa discesa nelle tenebre di quest'uomo che ci fa una grande pena, di quest'uomo incapace anche di ritrovare se stesso, un uomo che riesce in qualche modo a ribellarsi soltanto alla fine, e neppure contro, veramente contro quel sistema che lo andava schiacciando, ma contro se stesso, togliendosi la vita. Ecco, chiudiamo questa puntata con un'immagine. Un'immagine che viene proprio da una delle ultime scene di la ballata di Strozek, del quale anche se vi abbiamo volontariamente detto il finale per lasciarvi apprezzare meglio la profondità della critica erzoghiana, vi esortiamo a poter vedere questo finale in cui in un parco giochi, prima di suicidarsi, Strozek gioca con un'attrazione, un'attrazione che vedeva dei polli, degli animali, dei conigli, ballare al suono di una musica sincopata per pochi spiccioli, degli animali che continuano a ballare per lunghi minuti dopo che Strozek si è sparato in testa, e che sostanzialmente chiudono il film prima dei titoli di coda, quasi come una triste, una macabra allegoria dell'uomo ormai ridotto a animale domestico, a pollo da cortile, in un sistema che di umano ormai avventura. vi attendiamo con la prossima settimana con uguale entusiasmo, sempre pervasi dalla passione del cinema che ci anima, e vi attendiamo per parlare di un film molto interessante, un film recente e che è capace di inquadrare una certa deriva del presente in modo veramente impressionante. Si parleremo infatti di Equals. Vi attendiamo dunque la prossima settimana, grazie di averci seguito e sempre viva il cinema! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.